Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Magnus Karcian era sparito dalla circolazione, ha smesso di giocare a scacchi per circa un mese e finalmente ora è tornato, seppur online. Sapete, lui si diverte tanto a giocare a scacchi e affronta i grandi maestri giocando aperture minori, giocando cose che praticamente non gioca mai nessuno. E spesso e volentieri riesce a stupirci, perché Karcian è troppo forte e quindi può permettersi di fare tutto ciò che vuole. Sarebbe troppo bello se tornasse pure dal vivo a vincere il torno dei candidati e poi a diventare campione del mondo, lì sarebbe proprio fantastico. Prima di iniziare ricorda a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui, la partita che andiamo a vedere è stata giocata da Carlsen con i pezzi neri contro Shankland, Sam Shankland, grande maestro americano, giocatore di scacchi molto forte, che ha un bel punteggio e lo fide anche, e su chess.com sopra i 3000. Al title Tuesday è stata giocata questa partita. Shankland apre con pedone d4 e Carlsen gioca a cavallo f6. Ma cos'è sta mossa? Cos'è sta mossa? Cioè questa è una mossa comunque rara, no? Cavallo c6. Boh. Segue pedone e4, pedone d5. E rientriamo nella difesa nimzovic, almeno così la chiamano chess.com, quindi non date la colpa a me ragazzi, cioè nel senso, c'è chi dice sempre è l'apertura, l'apertura. Questa viene chiamata nimzovic defense. È una variante strana, rara penso, dove il bianco occupa il centro, Carlsen quindi sfida subito il centro con d5, Shankland spinge in e5 e prende spazio, e Carlsen gioca alfiere f5. Il bianco continua con cavallo f3, segue e6, pedone c3. Ora, se vediamo questa posizione, sembrerebbe una sorta di difesa francese, o karokan se vogliamo, però peggiorate, perché il pedone in c7 solitamente dovrebbe stare o in c6 oppure in c5. Ad esempio, nella francese, il nero cerca di attaccare il pedone in d4. Nella karokan il pedone sta in c6 e poi dopo viene spinto in c5. Quindi, non dovrebbe essere granché come apertura, però, secondo il motore, questa è un'apertura che dà la parità. Carlsen gioca f6, perché dovete sapere che Carlsen è vero che gioca aperture minori, però le sa giocare bene. Non è che le gioca a caso oppure improvvisa, quindi attenzione, questo va a suo vantaggio. Dato che lui le conosce, le studia, oppure gli altri le studiano per lui e poi dopo lui comunque legge solo il foglio con le nuove varianti, non lo so come funziona, avrà sicuramente trovato un modo per studiare Carlsen, sicuro questo. Gli altri, ad esempio Shankland, questa apertura, magari l'ha vista una o due volte in vita sua. Magari non la conosce neanche. Shankland comunque gioca alfiere b5, la mossa migliore, inchioda il cavallo. Carlsen alza la donna in d7, prepara mosse come a rocco lungo e difende comunque il cavallo per non farsi doppiare i pedoni. Segue a rocco, il bianco mette il real sicuro e Carlsen gioca a cavallo e7. Qui è pronto a riprendere di cavallo. Torre in e1 per Shankland e Carlsen qui interroga l'alfiere con pedone a6. Dopo alfiere a4, Carlsen gioca a cavallo g6, la mossa migliore. Ora sta mettendo pressione sul pedone in e5. Segue cavallo d2 per il bianco, pedone b4, Carlsen attacca l'alfiere, l'alfiere si ritira in c2, e dopo alfiere per alfiere, donna per alfiere, Carlsen decide appunto di catturare in e5. Ci sono abbastanza pezzi che puntano in e5, quindi dopo cavallo per e5, Carlsen cattura il cavallo e dopo pedone per, arriva alfiere e7. Ora, dato che Carlsen di qua ha compromesso la struttura pedonale sul lato di donna, può arroccare corto. Arroccando corto si ritroverebbe ad avere la torre su una colonna semiaperta e quindi attaccherebbe il pedone in f2. Inoltre potrebbe poi giocare in futuro a mosse come alfiere c5 per aumentare la pressione in f2. Segue cavallo b3 per Shankland, che capisce qui cosa sta rischiando, e allora vuole giocare alfiere in e3, o comunque vuole sviluppare l'alfiere camposcuro. Carlsen arrocca, segue alfiere e3 appunto, una mossa molto logica ma che non piace per niente al motore, anche perché, cioè, lo possiamo capire benissimo anche da soli, in questa posizione Shankland lascia un pedone in presa. Cioè, uno si chiede qui, ma cosa fa Carlsen? Carlsen ipnotizza gli avversari. Come fai a lasciare un pedone in presa netto? Ora Shankland sta puntando i pezzi su c5, ma non sembra esserci nulla, praticamente. Carlsen cattura questo pedone, Shankland viene con l'alfiere in c5 e Carlsen gioca alfiere d6. Alfiere d6 in realtà è la mossa migliore, però, buh, non lo so, il motore la segna come errore. Carlsen qui sta difendendo semplicemente il cavallo e Shankland aumenta la pressione sulla colonna e, sta attaccando il pedone in e6. Segue torre in e8 per Carlsen, difende il pedone. Torre d1, il bianco finisce lo sviluppo, quindi sviluppa tutti i pezzi. E Carlsen salta con il cavallo in c4. Segue alfiere per alfiere, donna per alfiere e cavallo d4. Altro errore da parte di Shankland perché questo cavallo non è forte così come sembra. Basta giocare pedone e5 e cacciare via il cavallo. Quindi il nero prende spazio, ha un pedone in più. Carlsen gioca e5. Shankland ritira il cavallo in f3 e Carlsen gioca pedone e4. Dopo cavallo d4 gioca cavallo e5. Ora vuole giocare cavallo d3, ad esempio. E attaccare la torre, attaccare b2, attaccare il pedone in f2. Quindi donna in e3 per Shankland e Carlsen gioca cavallo g4 ora. Attacca la donna e attacca f2, gratis praticamente. E non solo, ma minaccia di entrare con la donna. Insomma, un vero e proprio disastro. Cioè, non lo so. Ragazzi, quando giocano contro Carlsen e sembrano dei principianti, io non so cosa dire effettivamente. Ora, vabbè, me ne scuso, perché Shankland è molto più forte di me a scacchi. Però io sto analizzando la partita Carlsen-Shankland, dove Shankland è inguardabile semplicemente. Cioè, qui ha già posizione completamente persa. Segue donna g3, Shankland offre il cambio delle donne, Carlsen cattura e dopo pedone f per g3, Carlsen gioca cavallo f2, la mossa migliore. Attacca la torre ed è pronto a giocare mosse come cavallo d3. Segue torre d2, cavallo d3 appunto e torre in e3. Questo cavallo è fortissimo, invece il cavallo del bianco non mi sembra così forte, perché non sta minacciando granché per ora. Segue c5 da parte di Carlsen, cavallo e2 e Carlsen gioca torre 5, con l'idea di doppiare le torri. Pedone b3 invece per Shankland, una mossa alquanto strana, non so bene a cosa serva. Carlsen gioca invece torre in d8, con torre d8 magari qui sta pensando proprio di spingere, di crearsi due pedoni passati. Shankland viene con il cavallo in f4, Carlsen cattura e dopo pedone per f4 ritira la torre in e8. Sappiamo che i finali sono il suo forte, è il numero uno nei finali e quindi dice va bene, dai, rientriamo in un finale, vediamo un pochino cosa succede, anche se ho solo un pedone in più. A me va bene semplificare. Torre in e1 per Shankland, Carlsen spinge in d4, segue pedone per d4, pedone per d4 e torre d1. Due pedoni passati, vediamo come fa Carlsen a vincere questo finale. Gioca intanto d3 e con d3 le due torri del bianco sono completamente passive. Shankland gioca g4 e segue pedone 3. Incredibile ma vero, ma in questa posizione Shankland abbandona. Abbandona perché si rende conto che anche se il nero ha un pedone in presa qua, ma c'è l'altro pedone che va a promozione. Ma come fai a giocare pedone g4 in una posizione del genere? Quindi in questa posizione abbandona, ma vi faccio vedere che dopo torre per pedone, basterebbe giocare torre per, dopo torre per, arriva pedone in e2. La torre non può tornare indietro, altrimenti segue pedone per torre. Il re non può venire a difendere perché comunque il nero va a promozione a donna e quindi ha una donna in più. Ora ditemi voi se Shankland qui ha giocato dal grande maestro, oppure Karsen che è troppo forte insomma, Karsen torna e gli altri sembrano dei principianti. Non ci posso credere insomma ragazzi. Qui se vediamo la performance di punteggio, a Karsen gli dà 3200, a Shankland 2850. Quindi probabilmente Shankland ha giocato un pochino sotto tono. Se vediamo invece la precisione 86.7 per Karsen, 79.4 per Shankland. Però c'è da dire che il motore di chess.com non è perfetto, ok? Alcune mosse le dava come errore quando erano invece delle buone mosse. Detto ciò, Karsen è tornato a giocare a scacchi, Neiman sta giocando a scacchi, seppur online ovviamente, vabbè, però ora torneranno sicuramente anche a giocare a scacchi dal vivo. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, ciao e alla prossima!